Amici di Telemolisse, bentrovati. Ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di giustizia. Il tema è tornato al centro del dibattito politico dopo che il ministro Alfonso Bonafede ha scelto San Giuliano di Puglia per annunciare una delle riforme più discusse la durata della prescrizione. E proprio di giustizia si parlerà domani sera nella puntata di Moby Dick. Ma intanto su questo argomento, i punti cardine della riforma della giustizia di cui si discuterà nei prossimi mesi, sentiamo l'editoriale del nostro direttore Manuela Petescia. Alfonso Bonafede, ministro della giustizia del governo gialloverde, ha scelto una platea molto cara e familiare a noi molisani per mettere sul tavolo del confronto il tema della durata della prescrizione nei processi penali, nell'ambito di quella riforma della giustizia che diventerà nei prossimi mesi uno dei principali argomenti del dibattito politico. Lo ha fatto a San Giuliano di Puglia durante la sua visita al cimitero in cui riposano i bimbi e la maestra, morti nel crollo della scuola. La prescrizione si deve interrompere dopo il primo grado di giudizio, ha annunciato Bonafede, innescando, come era prevedibile, una polemica dai toni durissimi tra chi salutava con favore il crollo degli stratagemmi architettati dai furbi e chi accusava il ministro di un vero e proprio attacco alla Costituzione, inaugurare di fatto l'era del processo eterno. Una polemica di pari intensità, c'è da aspettarselo, accompagnerà un altro cavallo di battaglia del ministro Bonafede, l'abolizione della riforma delle intercettazioni voluta dal precedente governo, la cosiddetta legge Bavaglio, scritta, sempre secondo l'attuale ministro, con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati. Temi delicati, difficili da affrontare, temi in palese conflitto, che investono da una parte il diritto dei cittadini ad essere informati, dall'altra il diritto dei cittadini a non subire gogne mediatiche. Ma c'è molto altro nella riforma della giustizia annunciata dall'attuale governo. Una riforma che non nasconde la sua ispirazione populista, basata sul principio che lo Stato sia chiamato non solo a garantire la giustizia, ma anche a saziare in qualche modo la rabbia dei cittadini di fronte all'impunità. In questa luce potrebbero essere lette le misure che invocano pene più severe, una lotta serrata alla corruzione, la costruzione di nuovi carceri, la riapertura dei piccoli tribunali. Insomma, più giustizia per tutti nelle intenzioni, che rischia però di diventare un boomerang. Meno diritti e meno garanzie per tutti. Il sistema giudiziario è imperfetto. Ed è imperfetto semplicemente perché intorno ai nobili principi di verità, onestà, imparzialità, intorno al mito della giustizia, appunto, operano uomini in carne e ossa. E il mito non si fa incatenare mai in nessun sistema terreno. Restano quindi in piedi e imperfetti i soli tentativi di avvicinarsi il più possibile agli ideali di giustizia che ogni cittadino racchiude dentro di sé e che ogni cittadino considera giusti o sbagliati secondo il momento storico in cui vive e secondo una serie infinita di variabili e incognite, non ultime le proprie esperienze personali. E allora, le intercettazioni telefoniche sono uno strumento sacro e inviolabile salvo finirci dentro senza sapere né come né quando e leggere la propria vita privata in prima pagina su tutti i giornali. La prescrizione va abolita, è un mero trucco per farla franca, salvo trovarsi nel tritacarne giudiziario e da innocenti per tutta la vita. La legittima difesa deve essere proporzionata all'offesa, salvo trovarsi da soli di notte con i propri bambini e impugnare un'arma senza il tempo di riflettere se il ladro sia più o meno pericoloso. E così via in un contrasto di tesi e antitesi che caratterizza senza tregua e senza tempo l'intero sistema. E i dubbi. La guerra di tesi e antitesi talvolta restano in piedi anche dopo le sentenze. Tanto che si gioisca per una condanna, tanto che si gioisca per una soluzione. La verità storica e la verità processuale, infatti, non sempre coincidono. A differenza di quanto apparso su alcuni organi di stampa, non è stato deciso alcun commissariamento del PD di Campania, Calabria e Molise. Tutti gli organismi dirigenti del partito di queste regioni, compreso il segretario regionale, resteranno in carica fino alla elezione dei nuovi vertici. Questo perché a oggi in quelle regioni non è stato ancora fissato il congresso regionale, mentre l'ultima direzione nazionale ha dato il via al percorso del congresso nazionale. Lo afferma Gianni Dal Moro, responsabile organizzazione del PD, semplicemente prosegue, si tratta di posticipare i congressi regionali di Campania, Calabria e Molise, che si svolgeranno così in contemporanea con quello nazionale, per evitare la doppia chiamata alle urne di iscritti ed elettori a pochi mesi di distanza. Cinzia Guercio è stata nominata nuovo prefetto di Isernia, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha disposto anche la nomina di Fernando Guida a capo della prefettura di Crotone. Cinzia Guercio è stata in passato commissario prefettizio del Comune di Avellino e commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Caserta, sciolta per infiltrazioni malavitose. È salvo il punto nascite al Veneziale di Isernia, superato il numero dei 500 parti all'anno. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Sono numeri da record quelli del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Veneziale di Isernia. Nel 2018 sono già 500 i parti nel presidio ospedaliero Pentro, nonostante la scura e dei tagli che sta investendo l'intera sanità molisana. Dei numeri che in qualche modo mettono al sicuro il punto nascite di Isernia, divenuto una vera e propria eccellenza in ambito regionale. I dati sono stati illustrati dalla dottoressa Angela Scungio, dirigente medico dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, che in una lettera aperta ha sottolineato gli enormi passi in avanti fatti, un successo che viene misurato anche attraverso la fiducia che le donne hanno nei confronti dei medici e del personale. A ciò si aggiunge una forte sinergia tra il reparto e le associazioni che operano sul territorio, un'eccellenza che però stride con la chiusura dell'ambulatorio pediatrico avvenuta in questi giorni presso l'ospedale Isernino. Scaduto il progetto pilota, in assenza del commissario alla sanità, nessuno può prorogare il servizio. E da circa un anno e mezzo si legge nella nota della dottoressa Scungio, con l'impegno costante di medici, ostetriche e di tutti gli operatori sanitari, che stiamo cercando di attuare innovazioni al fine di assicurare un servizio efficiente e di qualità. A tutt'oggi si può affermare che il punto nascita di Isernia nel 2018 è salvo, ha infatti superato i punti di debolezza, rafforzando i punti di forza e raggiungendo livelli performance significativi in termini di raggiungimento e superamento del numero di 500 parti, contenimento del tasso dei tagli cesari e umanizzazione del percorso di nascita. Il nuovo gasdotto Larino Chieti pesa sulle bollette degli italiani. È inutile perché la rete attuale già può trasportare tutto il gas che serve e risponde anche a picchi di consumo. Così Augusto De Sanctis del coordinamento Noab del Gas Abruzzo a Pescara ha spiegato il ricorso al Presidente della Repubblica contro il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato la costruzione del nuovo gasdotto tra l'Abruzzo e il Molise. Ci dice tutto la redazione di TV6. È una follia autorizzare nuove opere che promuovono l'uso del metano corresponsabile dei cambiamenti climatici. E questa è la convinzione alla base della lotta che stanno portando avanti le associazioni che fanno parte del coordinamento Noab del Gas che stanno lottando contro il nuovo gasdotto Larino Chieti. Lo scorso 2 di novembre l'Associazione Nuovo Senso Civico aderente al coordinamento ha depositato e notificato un ricorso al Presidente della Repubblica contro l'autorizzazione del Mise del 25 giugno 2018 per la costruzione del nuovo gasdotto tra Abruzzo e Molise. Un'opera contestatistima che dovrebbe essere lunga 111 chilometri e attraversare le colline d'Abruzzo e Molise soppiantando tra l'altro vigneti e oliveti di Gampregio e interessando ben otto siti di interesse comunitario. Si tratta di uno dei provvedimenti del Mise varato sotto il nuovo governo Lega 5 Stelle che viene impugnato per un'opera rilevante dal punto di vista delle conseguenze ambientali secondo le associazioni ambientaliste. In particolare nel ricorso si contesta la violazione della rilettiva 42-2001 della Comunità Europea sulla valutazione ambientale strategica e della direttiva 43-92 sempre della Comunità Europea denominata Habitat sulla valutazione di incidenza ambientale per non aver sottoposto a queste due procedure due atti fondamentali e propedeutici alla pianificazione dell'opera. Altri aspetti del ricorso riguardano la mancata contradduzione alle osservazioni puntuali delle associazioni in sede di valutazione di impatto ambientale da parte del Comitato Via regionale. Riteniamo inoltre particolarmente grave questo provvedimento perché è il primo provvedimento autorizzativo di questo governo che aveva preso degli impegni concreti rispetto alle fonti fossili e riteniamo allo stesso tempo grave anche il fatto che quest'estate il Ministro Costa aveva preso degli impegni rispetto alla verifica di questo progetto in particolare e alla mancanza appunto della VAS ed invece a distanza ormai di diversi mesi tutto tace siamo stati costretti appunto a presentare un ricorso al Presidente della Repubblica. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Ilaria Mastro Berardino la giovane mamma di 30 anni di Tufillo morta in seguito alle ferite riportate nell'incidente avvenuto mercoledì sulla Trignina tra l'auto della donna e un pullman dell'ATM carico di lavoratori della Fiat di Termoli trasferito a San Giovanni Rotondo l'autista del bus 42 anni di Salcito mentre sono più gravi le condizioni di un passeggero di 32 anni di Rocca Vivara ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Pescara tutti i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati per consentire gli accertamenti di polizia giudiziaria. Un pastore di 69 anni di Venafro è stato ritrovato stamattina senza vita in montagna in località Lenoci. Mario Romano, questo il nome dell'uomo, era uscito per portare il suo greggio al Pasquolo è stato ritrovato dal fratello in un dirupo, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 della Croce Azzurra ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare non è escluso che l'uomo sia precipitato nella scarpata in seguito ad un malore. I quattro comuni della costa fanno fronte comune per rilanciare il settore della pesca e creare opportunità di sviluppo sostenibile. Nel corso della conferenza annuale del FLAG organizzata a Termoli sono state indicate le possibili strategie di sviluppo sfruttando anche i finanziamenti offerti dall'Unione Europea. Ci dice tutto Fabrizio Occhionero. Opportunità per il rilancio della pesca e dell'acquacoltura la sinergia tra le istituzioni e le realtà territoriali per individuare possibili percorsi di sviluppo economico, commerciale e turistico. Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato sono i quattro comuni che fanno parte del gruppo di azione Molise Costiero. Lo scopo è quello di preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo al contempo la ristrutturazione economica e sociale legata ai cambiamenti del settore in un contesto di sostenibilità ambientale e di promozione della qualità dell'ambiente costiero. La conferenza annuale che si è svolta nei giorni scorsi a Termoli ha rilanciato gli obiettivi del FLAG cercando di cogliere tutte le possibili opportunità offerte a livello nazionale ed europeo. Una condivisione di intenti ribadita dal presidente di questa realtà Vincenzo Ferrazzano insieme ai responsabili dei varienti coinvolti tra i quali l'assessore regionale dell'agricoltura Nicola Cavaliere che si è concentrato sulla necessità di snellire le procedure dei bandi europei. Un momento di ascolto e confronto che proietta la costa adriatica e in particolare i 35 chilometri del Molise su interventi concreti di sostegno al settore incentivi e altre misure facendo leva sui finanziamenti dell'Unione Europea e sul nuovo assetto del porto di Termoli di recente interessato dagli attesi lavori di dragaggio. La cattedrale di Campobasso chiude per lavori di messa in sicurezza del tetto dopo alcuni sopralluoghi effettuati sentito il parere degli esperti la diocesi e la parrocchia hanno deciso di chiudere la chiesa domani l'arcivescovo Bregantini spiegherà i dettagli nel corso di una conferenza stampa. Una poltrona rossa una rosa bianca e due scarpette rosse sono questi i simboli che il Consiglio regionale ha adottato per lanciare un messaggio contro il drammatico fenomeno della violenza sulle donne nel solo 2018 sono 106 i femminicidi in Italia ascoltiamo il servizio Una poltrona rossa una rosa bianca e due scarpette rosse sono questi i simboli che il Consiglio regionale ha adottato per lanciare un messaggio contro il drammatico fenomeno della violenza sulle donne nel solo 2018 sono 106 i casi di femminicidio in Italia il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ma per noi deve essere ogni giorno una giornata dedicata a questo tema hanno detto i presenti alla conferenza stampa nei giorni scorsi il Consiglio ha deliberato all'unanimità l'istituzione del cosiddetto posto occupato ovvero la collocazione in Consiglio di una poltrona rossa prima firmataria dell'iniziativa la consigliera Paola Matteo oggi è una giornata importante e significativa per il Consiglio regionale che nella sua dodicesima legislatura ha deciso di intraprendere una serie di iniziative legislative e simboliche per il contrasto alla violenza di genere infatti la poltrona rossa rappresenta il posto occupato il posto lasciato vuoto da tutte le donne che sono state uccise da parte di un marito un ex amante uno sconosciuto un uomo che ha deciso di porre fine alla loro vita le scarpe rosse invece sono un'icona forte che rappresentano la forza della violenza quando colpisce e la rosa bianca invece rappresenta il simbolo del candore femminile gesti simbolici da parte di noi consiglieri regionali che vogliono comunque rappresentare l'impegno che stiamo mettendo nel proporre nuove iniziative legislative più moderne e all'avanguardia come strumento di prevenzione al contrasto alla violenza di genere il tema della violenza sulle donne è un tema che purtroppo sentiamo troppo spesso ad oggi sono 106 il numero delle donne che sono state ammazzate per mezzo delle mani di un marito di un amante di un compagno questa iniziativa di oggi è un'iniziativa davvero molto interessante voglio ringraziare la collega Paolo Matteo e Nico Romagnolo perché hanno avuto questa bellissima idea posto occupato vuol dire ricordare che su questa poltrona potrebbe esserci seduta una donna che oggi non c'è più consigliere Romagnolo lei è stato il cofirmatario dell'ordine del giorno che ha portato alla iniziativa di oggi bene ha fatto il consiglio regionale approvare l'ordine del giorno ma non avevamo dubbi perché è importante dare questi segnali che sono segnali che devono rimanere nel tempo e le istituzioni e quindi in questo caso il consiglio regionale deve essere da esempio e con questo simbolo permanente possiamo dare questa immagine nuova di attenzione a questo problema e la testimonianza di una donna vittima di violenza domestica è un video realizzato con i bambini e i ragazzi del paese se ne è parlato a San Martino in Pensilis in un riuscito convegno organizzato per coinvolgere e sensibilizzare le realtà del territorio ascoltiamo Fabrizio Acchionero promuovere una cultura della consapevolezza e coinvolgere ogni fascia d'età per continuare a stimolare la riflessione su temi significativi che riguardano tutti per il quinto anno l'associazione culturale San Martino Libera ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla violenza sulle donne il convegno tenuto al palazzo baronale è partito da un'analisi di contesto ovvero la matrice culturale e sociale che alimenta il fenomeno poi si è cercato di approfondire il tema al centro dell'iniziativa verificando l'adeguatezza degli strumenti a disposizione delle istituzioni e delle associazioni che operano sul territorio avvalendosi di diversi contributi sono intervenuti il generale dei carabinieri Giuseppe Antonio Di Giulio il presidente dell'ordine degli psicologi del Molise Nicola Malorni Maria Grazia La Selva dell'associazione Libera Luna la psicologa Alessandra Ruberto il direttore di primo numero Monica Vignale significativa la testimonianza di Lina Saracino una donna che ha vissuto il dramma della violenza in casa ed è riuscita a trovare la forza e il coraggio di denunciare applausi per il video realizzato con i bambini e i ragazzi di San Martino in Pensilis per dire no alla violenza sulle donne un contributo carico di emozioni che ha valorizzato il senso del convegno rinnovando un impegno condiviso dalle piccole alle grandi realtà e adesso danno un schiaffo no perché? perché io sono un uomo e non tocco le donne no perché? perché le donne non si picchiano io sono contro la violenza il sindaco di Boiano Marco Di Biase è stato colpito da uno schiaffo all'interno del comune un inquilino dell'istituto autonomo case popolari si era rivolto a lui per denunciare il mancato funzionamento della caldaia di fronte alla risposta del sindaco di non poter fare nulla per mancanza di fondi il cinquantenne lo ha colpito immediato l'intervento dei carabinieri che lo hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale è stata inaugurata la stagione teatrale della fondazione Molise Cultura al teatro Savoia di Campobasso sul palcoscenico il grande classico di Pirandello interpretato da Leo Gullotta pensaci Giacomino il servizio è di Gianni Bruno a Leo Gullotta in Molise a Campobasso dove fa un po' freddo ma l'hanno accolto con calore sempre mi accoglie con calore sarà perché rappresento anche un po' il sud a Campobasso sono arrivato tanti anni fa sempre in questo teatro sempre con un grande successo una grande accoglienza con il piacere dell'onestà sempre appunto di Pirandello pensaci Giacomino con Pirandello i suoi topoi cioè la società le caratteristiche della società secondo lei si attaglia bene le caratteristiche della società moderna Pirandello attualmente no no proprio un testo sembra scritto stamattina ma non è un caso che insomma è stato un premio nobile della letteratura era un uomo che conosceva la macchina teatrale conosceva la dramaturgia perfettamente ogni parola non era mai inutile infatti il testo non è stato assolutamente toccato viene offerto in un'ora e venti di spettacolo in una particolare scenografia come vedete ispirata la scenografia a quell'espressionismo di quando Pirandello insegnò a Berlino e quindi da questo parte tutto dagli sguardi della gente che è un tema ricorrente sguardi della gente insomma anche oggi tra facebook e social mica ci possiamo lamentare dentro ci sono tutti gli argomenti di oggi la condizione della donna la solitudine la scuola i problemi della scuola gli insegnanti gli anziani noi viviamo grazie agli insegnanti prendiamo le pensioni grazie agli insegnanti grazie agli anziani che sono sempre pronti verso i giovani allora il messaggio che lei vuole dare ai giovani in questo momento Leo Gullotta che cosa dice? no studiate studiate è vero avete problemi vi hanno tagliato i governi vi hanno tagliato tante cose l'università studiate perché chi studia comunque ha più frecce nell'arco anche nel saper ragionare quindi di affrontare la vita questo sia nel bene che nel male quindi studiate 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 qualsiasi cosa vogliate fare siate curiosi della vita su iniziativa su iniziativa dell'associazione culturale libero pensiero domani ai serni a partire dalle ore 16 prenderà il via una due giorni dedicata alle donne con mostre e convegni si parlerà in particolare di prevenzione e buone pratiche mediche sentiamo tutto da Sergio Di Vincenzo Il lato rosa della salute obiettivo donna prevenzione e buona pratica medica il tema di un convegno in programma domani pomeriggio e dopo domani ai serni nell'aula magna di Ocesana di via Mazzini un'iniziativa organizzata dall'associazione culturale libero pensiero perché questa iniziativa Domenico Mancini ma questa iniziativa ha un perché piuttosto profondo abbiamo cercato la collaborazione del centro polispecialistico Vita Salus per mettere a disposizione una serie di specialisti e una serie di competenze che possano sviscerare la problematica inerente alla prevenzione della donna interverranno per quanto riguarda la pratica medica una serie di specialisti di numerose branche che cercheranno di soddisfare alle esigenze del pubblico presente per quanto concerne la prevenzione a tutto tondo Non finisce qui perché avete voluto omaggiare la donna anche da un punto di vista artistico infatti verranno inaugurate due mostre la prima è Filamenti una mostra di scultura curata da Edoardo Lalli e Giuseppe Colangelo poi ce n'è un'altra di pittura contemporanea a cura di Gianni Dinezza ritratti di donna Sì, noi siamo un'associazione culturale che si occupa da sempre del lato artistico delle varie situazioni non c'è parso vero di poter sposare questo evento scientifico con un omaggio alle donne da parte di questi scultori e da parte di questo pittore che sono noti per aver raffigurato il mondo femminile e soprattutto diciamo l'essere della donna e hanno una notorietà addirittura nazionale Si appresta a festeggiare il suo 14esimo compleanno nel centro commerciale in piazza di Isernia per l'occasione sarà preparata una maxi torta che sarà offerta a tutti ospite speciale Elia Fongaro uno dei protagonisti dell'ultima edizione del grande fratello VIP tutti sono invitati a partecipare alla festa l'appuntamento è per domani 30 novembre a partire dalle ore 18 e parliamo adesso della nuova mostra di Piero Perrino a Campobasso che sarà inaugurata sabato e resterà aperta fino al 13 dicembre sentiamo Tonino Danese una nuova mostra una personale dell'artista campobassano Piero Perrino sarà inaugurata sabato primo dicembre al circolo sannitico di Campobasso e resterà aperta al pubblico fino al 13 dicembre in esposizione i quadri che caratterizzano Perrino il suo concetto artistico espresso nelle forme e nei colori sulla tela effettivamente le mie creatività hanno delle forme importanti per chi al limite si emoziona però voglio dire che dopo Assisi e Boiano che ho avuto veramente grande entusiasmo ecco mi accingo ancora una volta qui a Campobasso al cospetto dei Morisani sperando che saranno contenti a me sono sempre creatività io non faccio quadri ma creo quindi saranno penso credo una trentina ma tutti gli ultimi pezzi ultime opere che ho percepito di quale può essere il concetto artistico di Piero Perrino qual è il tuo concetto artistico ma io in effetti ogni ogni segno rappresenta il mio momento di vita perché io non è che vado la mattina e faccio il rosso no io creo e quando creo è come se vado in trans quindi non percepisco praticamente il mio momento in quel contesto e i segni vengono così ecco poi c'è qualcosa di nuovo perché Piero Perrino si prepara per la Biennale di Venezia magari sì in effetti la mia manager che è veneziana mi ha proposto la commissione che praticamente indice la Biennale di Venezia e spero di essere uno dei prediletti veramente spero con quali opere? le opere già sono lì a Venezia proprio al cospetto di questi critici e sono opere certamente per me molto emozionanti e belle bene con questo è tutto si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la rassegna stampa a voi tutti buonanotte grazie a tutti Grazie.